Musica Bella raga oggi siamo su Black Ops 2 e vi porto una partita molto veloce cioè non è neanche una partita, è uno stralcio di partita una kill streak da 28 barra 30 adesso non sono riuscito bene a contarle perché come al solito poi salta l'host io ho fatto le mie 30 kill tra tutte le ricompense l'host arepiche anche abbastanza veloce perché la partita come vedete dura 3 minuti e 54 quindi alla fine in 3 minuti prendo tutto però oggi vi voglio parlare appunto di Enrico BS che come ho già detto nel video di F1 di ieri riesce a entrare nel... riesce? ma ha consentito diciamo a partecipare al progetto Mv2, Mv3, Black Ops 2 insomma un sacco di code e sono molto contento perché molti vogliono vedere partite di code quindi ecco così le vedrete quindi come al solito vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate come pensate che stia andando avanti il progetto noi abbiamo molte idee molte idee potete darcele voi scrivendomi, scrivendo loro, scrivendo i commenti insomma fateci sapere tutto quello che pensate perché come al solito il mio canale benché se ne entrate adesso altre persone rimane comunque in mano vostra come sapete le richieste sono sempre accettate e anzi viste diciamo di buon grado nel senso che siamo sempre contenti se ci fate le richieste Gaura ha subito accettato quella di fare il cecchino Mazzo ha seguito la vostra idea di fare gli inseguimenti di portare... gli va bene portare le partite anche di Mv2, le nucleari insomma sono tutti molto disponibili ed è proprio per questo che li ho scelti che sono tutti molto gentili, disponibili e delle persone veramente squisite diciamo quindi io li ringrazio veramente tutti tutti e tre perché mi stanno dando una mano con questo mio progetto e... e nulla e quindi voglio sapere cosa ne pensate ah lì si muove la guna, non lo sapevo, va bene quindi adesso prendo l'Hodestar faccio le mie 15 kill boh non lo so e poi finisce... finisce il video perché come ho detto salterà lost perché appena mi rialzo laggerà un pochino e poi si blocca quindi vabbè è sempre così come mai non c'è possibilità di andare avanti vabbè fa niente insomma si sopravvive anche senza senza queste cambi del lost di Black Ops insomma però questo è quello che ci viene concesso da Call of Duty e dobbiamo prenderlo così com'è quindi nulla quello che volevo dirvi era un po' questo io come al solito vi ringrazio tutti perché come al solito ci supportate perché ci date delle idee ci date dei consigli insomma perché mi aiutate a crescere a far crescere il canale quindi io vi ringrazio veramente tutti quanti col cuore e spero che questo video comunque vi sia piaciuto è molto veloce ma avevo bisogno proprio di tre minuti per dirvelo quindi nulla di più però è bella come serie a me piaceva cioè 30-0 è tanta roba ecco una killstreak molto bella molto veloce quindi io vi ringrazio e ci vedremo come al solito con i prossimi video bella raga è il nostro è il nostro grazie a tutti